Il 15 settembre parte la 41esima edizione autunnale dei weekend gastronomici. Terminerà il 1 di dicembre, 44 ristoranti di 30 località della provincia che partecipano alla iniziativa che è la più longeva della regione Marche. Che ha avuto un grande merito storico, quello di fare crescere la cultura gastronomica nell'entroterra della nostra provincia, perché lo ricordo i weekend gastronomici interessano solo l'entroterra della provincia di Pesurubino e anche qualche ristorante di comuni che erano in provincia di Pesurubino e oggi sono in provincia di Rimini. Quindi ha fatto crescere la cultura gastronomica ma ha avuto il grande merito di far conoscere località, borghi, paesi del nostro entroterra che altrimenti erano veramente ai margini dell'interesse dei turisti, degli stessi marchigiani. Quindi grazie ai weekend gastronomici abbiamo fatto conoscere i ristoranti, crescere la qualità della gastronomia e movimentare dal punto di vista turistico le nostre località. E per questo abbiamo abbinato anche in questa edizione i weekend gastronomici all'itinerario della bellezza. All'interno della guida quindi troviamo i riferimenti, una pagina per ogni comune, i 25 comuni che quest'anno partecipano all'itinerario della bellezza. Ma questa iniziativa prima di tutto è in fiore l'occhiale della Concommercio, che ci tiene tantissimo, non avremmo mai pensato che quando si è cominciato questo itinerario avrebbe avuto un successo tale e avrebbe così tanta vita. Certamente è stato indovinato una cosa, che il gustare un menù buono a prezzo modico ha inciso a far muovere tante tante persone e questi ristoranti hanno capito che era la formula giusta. 26-29 euro è il limite massimo con due piatti a base di tartufo, quindi la dice lunga, con dei menù straordinari, di grande qualità, menù molto ricchi, il cui prezzo si giustifica solo per la promozione che noi facciamo. E quindi gli 11-12 mila cittadini che prenotano nei ristoranti in ogni edizione autunnale sono la dimostrazione della bontà dell'iniziativa e del fatto che l'abbinamento prezzo promozionale e certezza per il consumatore, perché il consumatore sa esattamente cosa mangia, cosa beve, anche il costo dell'acqua o del caffè sono la formula vincente di questa iniziativa. Grazie 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 Grazie